Bentornati amici, YouTube a questo appuntamento, quest'oggi andremo a parlare del mese di agosto 2022, andremo a vedere i transiti planetari più importanti di questo mese, quindi questo sarà un video dedicato solo ed esclusivamente all'astrologia. Se volete già vedere, aggiungere magari un messaggio al vostro segno solare o ascendente, potete ascoltare uno dei 12 video che ho già pubblicato la settimana scorsa, anche attraverso le carte. Quindi oggi parleremo dei transiti planetari e poi vedremo segno per segno come sarà questo mese di agosto 2022. Prima di iniziare vorrei ringraziarvi, grazie, 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 come al solito, iscrivetevi al canale per qualsiasi informazione, in basso avete la mia mail, la mia pagina web. Allora, devo dire che la stagione del Leone è una stagione sempre molto infuocata, e dobbiamo sempre concentrarci anche un po' di più su quello che amiamo fare, perché un po' è quello che l'estate ci serve, ci dà un po' una spensieratezza, ma nello stesso tempo capire un po' cosa sono e cosa c'è davanti a noi. Se pensavate che luglio è stato un mese abbastanza forte, aspettatevi di vedere questo mese, perché sarà estremamente forte, in grande stile, devo dire la sincera verità, perché il sole sta danzando proprio nel grande segno del Leone, quindi aspettatevi un livello di passione molto importante, questo significherà che questo sarà un mese importantissimo. All'inizio del mese iniziamo subito con un'idea di grande cambiamento nella nostra vita. Il 1 agosto, Marte, il pianeta della passione e dello slancio dell'azione, si unisce ad una delle congiunzioni più importanti del 2022, Urano e il Nodo Nord, per cui potete aspettarvi cambiamenti improvvisi che vi ispireranno e vi metteranno probabilmente anche un po' in crisi. A questo punto tutto ciò che potete fare è fare degli aggiustamenti lungo la strada e godervi anche questo tipo di viaggio, quindi andare con il flusso, perché non c'è modo di sapere con certezza dove questo treno di cambiamenti si dirigerà. Per fortuna è anche per questo che lo rende così eccitante. Ho già parlato di questa grande congiunzione in un video qui sul mio canale, quindi potete tranquillamente ascoltarlo, perché è molto molto importante. L'ho intitolato Un evento astrologico unico. Continuiamo con agosto, con Mercurio il pianeta della comunicazione entrerà nel suo segno natale della Vergine e questo vi darà una grande spinta per una sorta di chiarezza mentale che vi aiuterà a dare anche un senso alle cose e a ciò che state facendo. Quindi lasciate che le cose vadano come devono andare e poi riorientare i vostri sforzi. Le vostre relazioni saranno messe a pura prova durante questo mese, soprattutto quando Venere, il pianeta dell'amore, formerà un'opposizione con Plutone il 9 di agosto. Oscuro e trasformatore questo grande Plutone, quindi questo allineamento potrebbe intensificare le lotte di potere, aumentare anche la capacità di tutti di giocare con la mente, quindi cercate di fare del vostro meglio per mantenere la calma. In questo periodo tutti saranno nervosi, quindi non lasciate che i pensieri irrazionali diventino la vostra inevitabile verità. Fortunatamente quando Venere entrerà poi nel luminoso Leone l'11 di agosto, vi ricorderà di lasciare che sia l'amore, la passione a guidarvi. Niente di più gradito a Venere in Leone, che sarà proprio un ricompenso di affetto, di amore. L'11 agosto, in realtà, sorgerà anche la luna piena in acquario, che aggiunge un po' di pressione durante questo periodo e vi costringe quindi ad essere molto più realistici sulla vostra situazione. Unendo le forze con Saturno, pianeta proprio della inibizione, della restrizione, potreste magari sentirvi un po' bisognoso di tenere duro, anche quando vi sembra che tutto stia andando a rotoli. Tuttavia questa luna piena vi mostra anche un nuovo livello di forza, facendovi capire che molti ostacoli che prima vi trattenevano non sono nulla che non possiate gestire. E quando Venere formerà un trigono con Giove espansivo e anche di grande vita, il 18 di agosto, sarete in grado proprio di mettere da parte lo stress e godervi la ricompensa di un lavoro così duro. La luna piena di agosto, ricordatevi, vi aiuterà tantissimo ad essere realistici. Questo è qualcosa che dovete ricordare. Il 20 di agosto, Marte, pianeta della grinta e del conflitto, entrerà nel chiacchierone sarcastico Gemelli, dove rimarrà per sette mesi. E poiché Marte sarà anche retrogrado da ottobre a gennaio 2023, questo è l'inizio di un lungo transito proprio di Marte nei Gemelli. Solitamente Marte transita un mese e mezzo, è in un segno. E poiché Marte ama in qualche modo anche agitare un po' le acque, chiamare in causa le persone e creare anche un po' di drammi, diciamo, è qualcosa che Marte in Gemelli aumenta come prospettiva. Attenzione però a ciò che dite nella vostra comunicazione, quindi non lasciate che la vostra bocca in qualche modo dica cose che poi non ve ne pentirete. Il 23 di agosto il Sole lascerà il Leone audace e creativo per entrare nella Vergine intelligente e analitica. Tantissimi auguri amici della Vergine. Questo cambiamento vi ispirerà a organizzarvi, a perseguire intenzionalmente i vostri obiettivi, poiché la Vergine ama proprio concepire un piano brillante ed eseguirlo con eccellenza. Non c'è momento migliore della stagione della Vergine per pulire, diciamo, la casa, rinnovare un programma, nutrire il vostro benessere, trovare i modi migliori di qualità di vita nella vostra vita. Quindi un aiuto a se stessi, il self-care, come viene spesso chiamato, è stato veramente inventato, diciamo, per la Vergine. Quindi immergetevi in tutto ciò che vi fa sentire meglio in questo momento. Alla fine del mese potreste trovarvi a lottare per la giustizia, di qualcosa anche, perché l'intelligenza di Mercurio entrerà un po' nella bilancia equilibrato, armonioso e diplomatico. Quindi il 25 di agosto bisognerà in qualche modo trovare delle situazioni che siano diplomatiche. Da questo momento vi incorreggerà proprio a parlare con qualcuno, a sostenere magari una causa contro l'ingiustizia, poiché la bilancia è un po' l'avvocato per eccellenza dello zodiaco. Il 27 di agosto, la luna nuova nel segno della Vergine, segna l'inizio di un nuovo capitolo. Vedrete quanto siete capaci di fare quando vi impegnate e aumentate proprio i vostri sforzi. Tuttavia questo prossimo viaggio non darà dei risultati immediati, quindi accettate il compromesso o la promessa di una grande gratificazione che presto avverrà. Quando Venere farà un'opposizione a Saturno il 28 di agosto, ecco questo potrebbe essere un momento in cui dovete aprirvi a degli ostacoli per cercare di superare. Quindi abbiate pazienza perché la vittoria è sicuramente dalla vostra parte. Adesso andiamo a vedere segno per segno come sarà questo mese di agosto 2022. Amici dell'Ariete, per voi questo mese di agosto vuole che vi lasciate andare e vi divertiate perché la vita è breve. Se sperate in una navigazione tranquilla, in un'atmosfera un po' così pigra estiva, ripensateci. Perché agosto, per gli amici dell'Ariete, inizia un po' con il botto, quindi preparatevi a un momento di imprevedibilità. Poiché il primo di agosto Marte il vostro pianeta dominante si allea con l'imprevedibile Urano, potreste iniziare proprio il mese con un cambiamento inaspettato del vostro status finanziario. Potreste anche decidere di acquistare qualcosa di eccitante ma poco pratico. Ricordate il rimorso dell'acquirente reale. Entro il 7 di agosto potreste avere la sensazione di non avere accesso alle risorse di cui avete bisogno, soprattutto quando si tratta di raggiungere i vostri obiettivi più importanti. Perché Marte, con Marte in quadratura, con Saturno, inibitore anche molto limitante, potreste essere costretti ad adattarvi ad un budget più ristretto. Ma si tratta solo di una battuta d'arresto temporanea. Non giudicate ancora i vostri progressi perché Venere appassionata entrerà nella vostra quinta casa creativa dall'11 di agosto, il che non solo vi incoraggerà a pensare fuori dagli schemi, ma vi ricorda anche di non ossessionarvi con ciò che è fuori dal vostro controllo. Nel corso del mese Venere si muoverà nella vostra giocosa quinta casa e vi metterà quindi anche in vena di romanticismo. Quindi preparatevi a prendere una cotta per qualcuno di nuovo, soprattutto perché è molto probabile che anche questa persona si prenda una cotta per voi. Infatti quando l'11 agosto la luna piena in acquario illuminerà la vostra undicesima casa delle persone, della comunità, potreste persino ritrovarvi ad avvicinarvi a un nuovo gruppo di amici. Tuttavia potrebbe essere necessario prendere le distanze da circoli sociali che non sono più in linea con i vostri valori. A metà di agosto riceverete una spinta positiva che vi ricorderà di andare avanti. Soprattutto il 14 di agosto, infatti, Marte formerà un trigono con Plutone nella vostra decima casa della carriera, dandovi la forza di superare qualsiasi ostacolo al successo. Potete far sembrare possibile l'impossibile, il che impressionerà i vostri superiore. Mentre Venere forma anche un trigono con l'avventuroso giovane in ariete proprio il 18 di agosto, state un po' scoprendo uno strato più profondo del vostro cuore. Curate il vostro ambiente domestico, trascorrerete del tempo con i vostri cari e fatevi anche sentire più a casa. Preparatevi quindi a far sbocciare delle nuove relazioni per tutto il resto dell'estate. Il 25 agosto, Mercurio entra nella vostra settima casa delle relazioni di coppia, prendo quindi il vostro cuore a legami più profondi, a tu per tu. Quindi è il momento di dare priorità anche alla persona amata, senza sacrificare il vostro senso di sé. State imparando che amare qualcuno e amare voi stessi vanno di pari passo. Toro, devo dire che questo mese di agosto vi chiede di adattare anche un po' i grandi cambiamenti e quindi siate alquanto pazienti durante questo mese. Se questo mese iniziate a sentire un po' fuori forma, non c'è da stupirsi, perché agosto vuole ricordarvi che siete ancora alle prese con tante svolte inaspettate, quindi datevi il tempo di adattarvi al cambiamento della vostra vita. In questo momento state, diciamo, guidando una rivoluzione, quindi continuate a manifestare il futuro in cui credete. Il primo di agosto, Marte in toro, si unirà con Urano, pianeta della ribellione, che aggiungerà, diciamo, un livello di intensità e di indipendenza alla vostra vita. Tuttavia potete fidarvi del processo, perché state ancora elaborando il fatto che Urano si è scontrato con il nodo nord del destino in toro proprio in questo periodo. Ci sono grandi cose in servo per voi e a volte la vita vi lancia verso una direzione per cercare in qualche modo di fare di voi qualcosa di nuovo. Per fortuna Venere, il vostro pianeta dominante, entra nella vostra quarta casa, la casa della famiglia, delle radici, delle quattro mure, e vi ricorda cosa conta davvero. A volte l'atto di tornare alle vostre radici e di concedervi una pausa dagli occhi del pubblico può essere veramente la cosa più salutare di tutte. Inoltre, quando la luna piena in acquario illuminerà la vostra ambiziosa casa 11 di agosto, potreste essere costretti a fare comunque un annuncio importante. La vostra carriera, così come la vostra reputazione generale e la vostra posizione sociale possono essere una fonte di motivazione per voi in queste prossime fasi della vita. È il momento quindi di riconoscere ciò che funziona e ciò che non funziona nella vostra carriera perché per sentirvi in qualche modo appassionato del vostro lavoro dovete comunque sentirvi appassionati di ciò per cui state lavorando. Questo mese state imparando che non tutto è sotto il vostro controllo e va bene così anche se vi state adattando proprio a diversi cambiamenti otterrete comunque una grande chiarezza quando Mercurio entra in Vergine e formerà un trigono con Urano in Toro proprio il 16 di agosto. Non solo il vostro istinto creativo prenderà vita ma ci saranno anche delle nuove idee geniali che andranno un po' anche controcorrente. Anche se tendete a essere una creatura abituraria, il Toro è molto spesso così, vi state rendendo conto che cambiare le cose può essere la migliore soluzione possibile ad un problema. Quando il 22 agosto il sole entrerà nel segno di terra della Vergine tutte le sfide e le difficoltà che avete vissuto vi sembreranno valide. Dopotutto il sole attiva la vostra quinta casa del divertimento e del piacere incoraggiandovi a lasciare andare le preoccupazioni e anche a trovare il tempo per divertirvi. Il 28 agosto, quando una nuova in Vergine chiuderà il mese sarete nella posizione ideale per immergervi in qualcosa che vi appassiona. Se avete voglia di creare il vostro prossimo capolavoro artistico questo è il momento giusto. Cari amici dei gemelli, per voi devo dire che questo sarà un mese dove vi dovete concentrare sulla costruzione della vostra vita. All'inizio di questo mese i gemelli potreste essere alle prese con tanti strani pensieri e rivelazioni. Dopotutto il vostro oroscopo di agosto 2022 per i gemelli inizia con una potente opportunità di seguire la vostra intuizione il primo di agosto, quando l'aggressivo Marte si allinea con l'imprevedibile Urano nella vostra dodicesima casa del sub inconscio. Potreste scoprire segreti e verità nascoste che vi lasceranno a bocca aperta. Non siate impulsivi con queste informazioni perché meritano di essere trattate con molta sensibilità. Questo mese potreste sentirvi il più sensibili, molto più sentimentali. Mercurio, il vostro pianeta dominante, entra nella vostra quarta casa privata e personale il 4 di agosto, incoraggiandovi quindi a lasciare che l'amore e la gentilezza informino le vostre azioni. È il momento quindi di far sentire voi stessi e vostri cari più a casa. Tuttavia con l'ingresso di Venere nella vostra terza casa della comunicazione l'11 agosto anche la vostra vita sociale diventa una fonte di eccitazione. Questo vi stimolerà a intraprendere conversazioni un po' così divertenti con potenziali amanti e fare anche progetti con gli amici che vorrebbero comunque avere un po' più di tempo con loro. Alcuni pensieri pesanti potrebbero avvenire proprio quando ci sarà la luna piena nel segno dell'acquario l'11 agosto. La vostra prospettiva in questo caso si allarga e vi permette di scoprire molte opportunità che stavate trascurando. Quindi abbracciate una mente molto più aperta e sfruttate il vostro bisogno anche di avventura. Non lasciatevi impantanare da dettagli fastidiosi quando il quadro generale sembra in realtà così bello. Alcuni pensieri pesanti che avete faticato a elaborare diventeranno sempre più chiari poi dall'11 agosto. In questo periodo Mercurio ingegnoso lancerà un trigono con Urano innovatore e quindi vi esporrà proprio a spingervi verso un perdono e ad evitare anche di nutrire i sentimenti. Perdonare non significa far rientrare qualcuno ma scegliere il non permettere più che il suo dramma vi percuota su di voi. Tuttavia quanto Marte è aggressivo ancora una volta entrerà proprio nel segno dei gemelli il 20 agosto potreste sentirvi molto più passionali, focosi e pronti a vincere nella vita. Sfruttate questa energia crescente e lasciate che vi porti fiducia, non distruzione. Il 25 agosto quando il vostro governatore planetario Mercurio entrerà in un segno di aria come voi in bilancia vi troverete veramente in uno stato d'animo molto più leggero e molto più passionevole e piacevole. Mercurio migliorerà proprio la vostra quinta casa, quella degli hobby, delle attività artistiche e potreste anche avere voglia di esprimervi in modo molto più colorato. Quindi non ignorate il vostro istinto creativo in questo periodo e quando la luna nuova poi a fine mese il 28 di agosto vi incoraggerà a nutrire la vostra vita personale vedrete proprio che questo è un momento in cui meritate di sapere di appartenere in realtà a voi stessi. Avete bisogno di sapere che siete amati. Dimenticatevi di coltivare un'immagine di prestigio e notorietà e concentratevi molto di più sulla ricerca del successo interiore. Cari amici del cancro Agosto vuole che tu protegga un po' la tua energia e che ami te stesso per primo. Questo mese potresti avere a che fare con alti e bassi soprattutto nelle vostre relazioni cancro. Dopotutto l'oroscopo del cancro di agosto 2022 inizia con un cambiamento importante nel modo in cui parteciperete anche a contesti sociali, ad amicizie e nel modo in cui soprattutto fate amicizia. Quando Marte è appassionato si allinea con l'imprevedibile Urano nella vostra undicesima casa della comunità il primo di agosto tenetevi magari pronti per alcuni scossoni nel vostro gruppo di amici tensioni nascoste, nascoste si stanno un po' rivelando quindi ricordate quando le persone vi dicono chi sono assicuratevi di ascoltarle. Entro il 9 di agosto potreste approfondire le dinamiche relazionale Venere in cancro proprio si farà un'opposizione con Plutone nella vostra settima casa delle relazioni di coppia il che potrebbe far luce sul livello di rispetto e anche di dedizione nelle vostre relazioni individuali quindi chiedetevi come vorreste essere trattati dal vostro partner e trovate il modo di ricambiare il vostro amore bisogna essere in due per ballare un tango ma anche per parlarne quando Venere entra nella strada più stabile e autosufficiente della vostra seconda casa il 12 di agosto quando Venere in Leone quindi comincerete a capire meglio come soddisfare i vostri bisogni non avete bisogno di qualcuno che vi completi perché in realtà già lo siete voi cancro tuttavia quando la luna piena in acquario illuminerà le profonde oscure della vostra ottava casa delle energie di fusioni l'11 agosto potreste sentirvi trascinati nel passato i vostri legami con le persone, i luoghi e le cose sono un po' da rivedere il che significa che è il momento di stabilire dei confini che proteggono anche la vostra energia dalle persone con intenzioni negative il 14 agosto Marte forma un trigono con Plutone nella vostra settima casa degli alleati e dei nemici quindi vi riunite con amici e colleghi fidati per creare qualcosa di innovativo se vi interessa unire le persone non avete problemi sicuramente di farlo durante questo periodo il 18 di agosto sarete in una posizione così potente da poter anche guadagnare di più e aumentare anche il vostro potenziale di guadagno Venere nella vostra seconda casa del flusso di denaro farà un trigono con Giove nel vostro settore della carriera quindi state facendo veramente accadere la magia sul lavoro in questo periodo quindi dominerete il vostro campo sfruttando il vostro talento per aumentare le entrate continuate a lavorare sodo e sarete sempre molto più fortunati entro il 25 di agosto potreste avere voglia di prendervi una pausa da tutto questo alti e bassi tram tram quotidiano e di rottare anche la vostra attenzione sulla vostra vita privata perché Mercurio attiverà la vostra quarta casa che vi ispirerà a trascorrere più tempo con i vostri cari e a prendervi qualche giorno di riposo tutti hanno bisogno di un po' di relax prima o poi tuttavia quando il 27 agosto la luna nuova in vergine sorgerà nella vostra geniale terza casa chiuderete il mese con alcune idee brillanti è il momento di fare domande studiare argomenti rilevanti e soprattutto imparare tutto quello che c'è da sapere su qualcosa che vi appassiona Leone ebbè devo dire questo è un mese molto molto importante per voi è il mese che vi dovete dare da fare e festeggiare con stile il vostro diciamo ritorno solare innanzitutto tantissimi auguri Leone per tutti coloro che faranno il compleanno fino al 23 di agosto diciamo che sei la star dello spettacolo sei uno dei segni più famosi di tutti i tempi Leone tutti vogliono sapere come state festeggiando il vostro ritorno solare quindi lasciate che l'oroscopo del Leone di agosto 2022 sia la vostra guida al successo di questo mese anche se vi aspettano delle sfide ricordate che i diamanti si producono solo sotto pressione il primo di agosto Marte appassionato unirà le sue forze con un rano innovativo e manderà l'elettricità direttamente nella vostra decima casa della carriera e dell'immagine pubblica questo vi ispirerà a cambiare drasticamente il vostro marchio portando la vostra attività anche nel futuro prenderete proprio sul serio i vostri obiettivi di carriera perché state facendo veramente faville nel vostro settore tuttavia se sentite il bisogno di prendere una decisione impulsiva assicuratevi di essere a vostro agio con le conseguenze quando viene il pianeta dell'amore e del lusso entrerà nel Leone il 12 di agosto vi inonderà di fiducia, di amore e romanticismo quindi non abbassate il vostro splendore solo per far sentire più a proprio agio i nemici invidiosi risplendi in tutta la tua gioia Leone tuttavia la luna piena nel segno dell'acquario dell'11 agosto vi costringerà magari a riconoscere ciò che funziona e ciò che non funziona nelle vostre relazioni non potete costringere qualcuno a essere la persona di cui avete bisogno né potete aspettarvi che vi preghino per far funzionare le cose quindi quando questa luna piena si unisce a Saturno, pianeta della responsabilità vi troverete a fare i propri conti con il fatto che l'amore non è sempre sufficiente per far funzionare una relazione entrambi i partner devono incontrarsi nel mezzo fortunatamente quando Venere in Leone formerà un trigono con giovine ariete il 18 di agosto vi ispirerà a fare nuove esperienze a seguire anche i vostri istinti più avventuriosi il vostro ritorno solare non si limita a celebrare voi stessi ma anche ad apprezzare le opportunità che vi circondano questo è un bel momento per andare in vacanza, conoscere nuovi argomenti e presentarsi a nuove persone espandete i vostri orizzonti perché vi sentite affamati di tutto ciò che la vita ha da offrire quando Marte aggressivo entra nella vostra undicesima casa della comunità e delle reti sociali potreste avere la sensazione che le persone vi facciano un po' ombra ricordate di fare del vostro meglio perché si tratta di pettegolezzi le voci corrono molto veloci in questo momento quindi sebbene non possiate controllare ciò che qualcuno pensa di voi potete fare del vostro meglio per rappresentarvi nel modo più autentico e rispettoso possibile quando la luna nuova in Vergine incoraggerà la crescita e la fiducia nella vostra seconda casa dell'autostima il 27 agosto dovreste ricordare la differenza tra ciò che vorrete ed è un volere e ciò di cui veramente avete bisogno e poiché Venere in Leone si oppone a Saturno in acquario nella vostra settima casa delle collaborazioni il 28 di agosto potreste fare i conti proprio con il modo in cui alcuni legami vi lasciano sempre un po' stanchi è il momento quindi di scoprire un livello di fiducia che non dipende dall'approvazione di nessun altro ce la puoi fare da solo caro amico del Leone cari amici della Vergine agosto sarà il mese che vuole che possiate possedere il vostro potere e lasciare andare il vostro bisogno di perfezione questo mese vedete veramente Vergine come aprire il vostro cuore e abbracciare tutte le nuove esperienze che vi vengono offerte perché l'oroscopo di agosto 2022 vuole che vediate qualcosa da un'angolazione completamente diversa iniziamo subito con il primo di agosto quando Marte si unisce ad Urano libero pensatore nella vostra nona casa della saggezza dell'espansione e iniziate proprio il mese con una comprensione completa nuova del mondo quindi accoglietela perché state scuotendo un po' le fondamenta del vostro sistema di credenze quando Mercurio, il vostro pianeta dominante, entrerà nel Signore della Vergine il 4 di agosto sarà un'esperienza incredibilmente rigenerante il pianeta delle comunicazioni, delle funzioni cognitivi funziona sempre al meglio quando si muove nel vostro segno zodiacale ed è fortunatamente questo cambiamento planetario è molto benefico per voi è arrivato il momento di sfruttare la vostra intelligenza di esercitare la vostra mente e soprattutto di comunicare le vostre idee con passione tutti aspettano di sentire ciò che avete da dire in questo periodo infatti quando il pianeta dell'amore si oppone a Plutone molto drammatico e ossessivo nella vostra romantica quinta casa il 9 di agosto potreste persino scoprire che una conversazione emotiva e introspettiva con un amico si trasformerà probabilmente in qualcosa di più se vi troverete a provare dei sentimenti cercate di prendere le cose con molta più calma non c'è motivo di impegnarsi prima di essere veramente pronti la luna piena in acquario dell'11 agosto vi ricorderà di essere realistici riguardante alle vostre esigenze quindi illumina la vostra sesta casa, quella della routine quotidiana questa luna piena vi incoraggia quindi a fare della vostra salute e del vostro benessere una priorità ancora maggiore vi incoraggerà anche a rafforzare la vostra comprensione delle gestioni del tempo perché per essere produttivi è necessario bilanciare i compiti in modo adeguato entro il 16 agosto potreste venire a capo di un'idea geniale mercurio in vergine forma un trigono con urano e questo potrebbe portare ad alcune rivelazioni che vi faranno sentire come se vi state diciamo state veramente accendendo una lampadina continuate a cercare quindi la freddezza, la dura verità in questo periodo perché la troverete tuttavia il 21 agosto mercurio farà un'opposizione con nettuno nel vostro settore delle relazioni alcune comunicazioni sbagliate potrebbero portare a qualche malinteso quindi prendete tutto quello che sentite con le pinze perché anche la verità può essere un po' manipolata il 22 agosto inizia la stagione della vergine tantissimi auguri cari amici della vergine che vi farà comunque sentire come vi state svegliando diciamo da un lungo e pigro sonno il sole che splende nella vostra prima casa dell'io vi ricorda di possedere il vostro potere e di diventare la migliore versione di voi stessi che non siete mai stati ecco quando la luna nuova poi il giorno 28 chiuderà il mese sempre in vergine questa luna nuova avrete un grandissimo potere per iniziare un nuovo capitolo e per cominciare magari col piede giusto qualcosa che avevate in mente accettate tutti gli errori che commetterete lungo il cammino perché finché state imparando state avendo successo cari amici della bilancia benvenuti a questo appuntamento l'oroscopo di agosto dice che state subendo una grandissima metamorfosi quindi aprite le ali se all'inizio del mese vi sentite stressati e sopraffatti non lasciatevi abbattere bilancia anche se l'oroscopo di agosto 2022 della bilancia è pieno di complicazioni da risolvere sta solo preparando la strada a tanta grandezza il primo di agosto l'aggressivo marte si unirà e unirà le sue forze con l'irregolare diciamo un po' impulsivo anche urano nella vostra ottava casa della trasformazione che porterà qualcosa a una fine un po' brusca inaspettata il karma è sulla buona strada per essere consegnato quindi se vi state sentendo un po' sopraffatti dalle verità che stanno emergendo sappiate che è stata fatta giustizia state vivendo una metamorfosi spirituale quindi buttatevi a capofitto fate però attenzione ai nemici e ai vampiri energetici soprattutto intorno al 9 di agosto in questo periodo venere il vostro pianeta guida farà un'opposizione a plutone oscuro e drastico che potrebbe magari attirare sguardi un po' invidiosi a volte è meglio celebrare il vostro successo in privato perché non tutti meritano di sapere quanto state facendo bene per fortuna il 12 agosto il giorno dopo quindi qualche giorno dopo venere entrerà nel segno del leone nella vostra undicesima casa della comunità e vi offrirà quindi molte opportunità di fare nuove amicizie e di ampliare quindi la vostra cerchia sociale scegliete di circondarvi di persone che sono davvero felici per gli altri quando stanno bene l'11 agosto la luna piena nel segno d'aria dell'acquario sorge nella vostra quinta casa della creatività e del romanticismo quindi sentite il desiderio di esprimervi e di riconnettervi con il vostro bambino interiore se il vostro lavoro non vi soddisfa è il momento di ricordare ciò che vi appassiona veramente ricollegatevi con vecchi hobby ecco iniziate a scrivere delle poesie a scrivere a chiedere insomma un po' chi sono le persone vicino a voi insomma questo momento dove dovete dedicare il tempo di ricordare tutto quello che è stata la vostra vita di quello che veramente ne valso la pena vivere se l'inizio del mese può sembrare pesante e opprimente il 18 di agosto riceverete un meritato trattamento dalle stelle venere formerà un trigono con giove che porterà tantissima positività nella vostra settima casa delle relazioni e della coppia è un momento bellissimo per tuffarvi nella magia delle amicizie e del corteggiamento veramente molto bello questo periodo se una persona quindi che ama le altre persone innamoratevi quanto volete in questo preciso istante mercurio inoltre 25 agosto entrerà proprio in bilancia sarete in una posizione ancora più forte per prepararvi con sicurezza agli altri e a sostenere con passione ciò in cui credete accogliete questa spinta di generità intellettuale perché le persone sono così impressionate da come riuscite a tradurre in parole il vostro punto di vista la luna nuova in vergine del 27 agosto vi incoraggerà a lasciare andare il passato e ad arrendervi al cambiamento delle maree segnando quindi un nuovo inizio nella vostra dodicesima casa della spiritualità questo 9 luglio è all'insegna proprio di lasciare andare e lasciare anche entrare qualcosa meritate di essere circondati dell'amore e dal perdono allora cari amici dello scorpione questo agosto vuole mostrarvi di chi potete fidarvi e di chi dovreste invece evitare quindi stai attraversando un periodo difficile scorpione fidati del tuo istinto perché se qualcosa non ti convince probabilmente è così l'oroscopo del mese di agosto 2022 per lo scorpione inizia con una nota un po' stonata perché siete ancora alle prese con scossoni, rotture, riappacificazioni, alti e bassi non tutte le relazioni sono destinate a durare per sempre quindi non accontentatevi di niente di meno e di ciò che meritate il primo di agosto Marte il vostro pianeta dominante si unisce ad urano nella vostra settima casa delle relazioni di coppie e iniziate anche il mese sapendo che alcune delle vostre relazioni potrebbero non essere realmente solide è probabile che siate anche un po' stufi di non essere rispettati da qualcuno di cui dovreste fidarvi se dovete prendere una decisione drastica per proteggere la vostra pace non osate esitare proprio il 9 di agosto venere il pianeta dell'amore si oppone a Plutone nella vostra terza casa delle comunicazioni e quindi potreste proprio scambiarvi qualche parola di circostanza quindi non prendete sul personale la negatività altrui dopo tutto non potete controllare ciò che le persone vi dicono o fanno ma potete controllare il modo in cui reagite quando la luna piena nel segno dell'acquario aprirà la strada a qualcosa di diverso nella vostra quarta casa quella della casa della famiglia delle radici delle quattro mura a partire dall'11 agosto farete conti con ciò di cui il vostro cuore ha veramente bisogno per sentirsi al sicuro pensate a come vi sentite quando sapete di appartenere ad un posto ricordate le persone che vi fanno sentire a casa e i luoghi che vi fanno sentire accolti invitate più energia in questa casa in questa vostra vita personale mentre mercurio intelligente forma un trigono con urano nel vostro settore delle collaborazioni il 16 di agosto vi renderete conto anche di chi potete fidarvi non abbiate paura di presentarvi alle persone che vi ispirano perché siete pronti anche a incoraggiare persone che in questo momento hanno bisogno di voi tuttavia poiché mercurio si oppone a nettuno che vi disorienta nella vostra quinta casa del romanticismo il 21 di agosto il vostro giudizio potrebbe essere sbagliato quindi aspettate a prendere impegni importanti anche se il vostro cuore in questo momento canta e tutto diciamo vi sembra così giusto ricordate che meritate più prove che promesse vuote le azioni parlano più delle parole scorpione quando la luna nuova in vergine illuminerà la vostra undicesima casa della comunità il 27 di agosto cambierà la vostra concezione di come funziona l'amicizia e come prospera il lavoro di squadra lasciatevi alle spalle gli scambi drammatici e le piccole lamentere perché siete pronti anche a lavorare con gli altri verso un obiettivo più alto e ricordate che una squadra fiorisce solo quando tutti i partecipanti si sostengono a vicenda e festeggiano i successi degli altri ciò che è buono in questo momento è sicuramente il vostro punto di forza cari amici del sagittario allora questo mese di agosto vuole che ignorate i detrattori perché siete veramente in fiamme devo dire che dovete preparare ad affrontarvi disordini e disturbi sagittari in modo ironico questo perché l'oroscopo per voi dice che all'inizio del mese potreste sentirvi incredibilmente attivi disorganizzati volete libertà potreste anche sentirvi forse un po stanchi della solita vita e volete essere proprio rivoluzionari la colpa è il fatto che marte il primo di agosto si unirà proprio con l'imprevedibile un anno nella vostra sesta casa dell'attività quotidiano il che potrebbe costringervi a buttare via tutta la vostra routine e a ricominciare da zero il cambiamento non è sempre una cosa negativa infatti venere seducente forma un'opposizione in plutone nella vostra seconda casa dell'autostima l'otto di agosto potreste trovarvi proprio coinvolti in una lotta per il potere all'inizio del mese se sentite il bisogno di avere il controllo su una situazione o se qualcun altro sta cercando di avere il controllo su di voi cercate di riconoscere che non ci saranno vincitori né vinti in questa situazione non permettete a voi stessi di abbassarvi al loro livello quando venere pianeta dell'amore entrerà nella vostra non a casa avventurosa e aperta a partire dell'11 agosto 12 agosto vi ricorderà di non preoccuparvi delle piccole cose c'è un mondo interno là fuori pieno di opportunità per tutti di raggiungere il traguardo tenete a mente il quadro generale la luna piena in acquario dell'11 agosto illuminerà la vostra terza casa della comunicazione vi costringerà a fare una conversazione che deve essere fatta è il momento quindi di dire la vostra verità e di lasciare che le vostre parole riflettano le vostre intenzioni in effetti potreste imbattervi in qualche pettegolezzo scottante che vi lascerà a bocca aperta ma ricordate che da una maggiore conoscenza derivano maggiori responsabilità quindi trattate queste informazioni con la sensibilità che meritano quando venere si unirà a giove in ariete il 18 di agosto vi incoraggerà a lasciarvi andare e a divertirvi dopo tutto giove sta ancora portando fortuna e amore nella vostra quinta casa della passione del romanticismo quindi ispirandovi ad abbracciare l'aspetto che meritate proprio tutto l'affetto soprattutto che meritate gli ammiratori vi circondano e vi apprezzano quindi approfittate dell'attenzione extra che riceverete tenete presente che una maggiore esposizione comporta anche maggiori complicazioni il 20 di agosto infatti Marte entra nella vostra settima casa degli alleati e dei nemici e potrebbe intensificare il livello di conflitto nelle vostre relazioni quindi non lasciate che qualcuno vi tratti come un sacco da box anche perché il vostro istinto è quello di essere comunque sempre troppo gentili siete un sagittario, audace e feroce non dimenticatelo mai la luna nuova in vergine chiuderà il mese il 28 di agosto vi incoraggerà a prendere sul serio i vostri obiettivi soprattutto per quanto riguarda la carriera se siete circondati da odiatori che cercano di sabotare il vostro successo è ora di lasciarle un po', insomma di fargli un po' le scarpe dopo tutto state andando lontano e benissimo cari amici del Capricorno per voi agosto prevede un cambiamento molto profondo e inaspettato soprattutto nelle relazioni di coppie se avete a che fare con alti e bassi nelle vostre relazioni non c'è da stupirsi l'oroscopo per il Capricorno per il mese di agosto 2022 è pieno di opportunità per un'evoluzione della vostra vita sentimentale anche se siete un segno di terra che ama la stabilità e la prevedibilità questi cambiamenti inaspettati stanno per rendere le cose più eccitanti del solito all'inizio del mese potreste sentirvi sopraffatti dal cambiamento delle maree almeno per quanto riguarda le vostre relazioni sentimentali quando Marte appassionato formerà una congiunzione con l'irregolare urano della vostra quinta casa della lussuria dell'amore potreste scoprire che sentimenti possono accadere quando meno te l'aspetti se state lottando contro la monotonia della vostra vita sentimentale è ora di cambiare le cose infatti Venere in Cancro si oppone a Plutone il giorno 9 di agosto c'è una forte possibilità che la passione apra la strada a qualcosa di un po' insomma un po' anche tossico in questo periodo sebbene possano essere insomma coinvolti forti sentimenti è necessario che ci sia una linea di demarcazione che non venga mai oltrepassata se i vostri limiti non vengono rispettati è ora di rafforzarli e se vi accorgete di aver oltrepassato il limite è bene che vi teniate sotto controllo l'11 agosto la luna piena in acquario attraverserà la vostra seconda casa dell'autostima vi ricorderà quindi chi siete, a cosa date valore e per cosa vi battete quindi è il momento di appropriarvi di ciò che vi appartiene perché non dovete condividerlo con qualcuno che non sarebbe mai disposto a farlo con voi quindi assicuratevi che i tuoi bisogni siano soddisfatti per primi e quando Marte formerà un trigono con Plutone in Capricorno il 14 di agosto aprirà la strada proprio ad una comprensione molto più profonda della vostra intimità dell'espressione di sé e ovviamente dell'amore è il momento di riempire proprio il vostro serbatorio creativo perché insomma sta per esaurirsi quindi fate cose che rinnovino la vostra ispirazione risveglino anche la vostra inclinazione al romanticismo dopo tutto la vita è troppo breve per continuare le giornate sentendosi insoddisfatti e quando Venere formerà un trigono con Giove nella vostra terza casa della comunicazione il 18 di agosto vi ricorderà magari di far conoscere i vostri sentimenti esprimere i vostri sentimenti quindi esprimete le vostre intenzioni all'universo perché potreste veramente rimanere sorpresi dal modo in cui il mondo vuole darvi ciò che chiedete la luna nuova in vergine che porterà insomma a conclusione il mese il 27 di agosto vi porterà ai margini di tante incredibili opportunità per espandere i vostri orizzonti e soprattutto liberarvi piantando quindi questi semi di qualcosa di nuovo nella vostra non a casa della ricerca e della verità questo prossimo capitolo della vita della vostra vita è tutto da vivere al massimo sfrutta fino in fondo caro amico del capricorno allora acquario allora questo mese di agosto devo dire che dovete superare alcune circostanze e abbracciare anche un po' la vostra crescita personale perché in questo momento dovete tenervi un po' forti perché questo è uno dei mesi quasi di grandi cambiamenti nella vostra vita dico spesso questa cosa dei cambiamenti però credo che questo sia il mese in cui una forte scossa vi colpirà veramente da vicino quindi ricordatevi di prendervi cura di voi stessi quando il gioco si fa duro il primo di agosto vi buttate direttamente nel caos perché marte il pianeta del conflitto unirà le forze con l'imprevedibile urano che è il vostro reggente nella vostra quarta casa delle radici della vostra famiglia il che potrebbe farvi sentire a disagio quando dovesse sentirvi al sicuro e protetti quindi potrebbe essere il momento di lasciarsi alle spalle alcuni dei sistemi di credenze che vi hanno vincolato che avete redditato durante la vostra crescita perché siete pronti a pensare con la vostra testa e a creare la vostra versione di casa non si può cambiare il luogo da cui si proviene ma si può cambiare il luogo in cui si va l'11 agosto venere il pianeta dell'amore entra nella vostra settima casa delle collaborazioni e vi fa capire che a volte i vostri più stretti alleati non sono le persone che pensavate ma quelle che avete trascurato date a una persona degna una seconda possibilità perché potrebbe sorprendervi quando l'11 agosto ci sarà una luna piena in acquario e vi ronderà proprio di magia e infinite possibilità sarete nella splendida posizione di mettere al primo posto le vostre esigenze invece di concentrarvi tanto sul piacere degli altri date una priorità molto più alta al piacere di voi stessi non dovete piegarvi alla volontà di nessuno in questo momento soprattutto se in conflitto proprio la vostra vita il 16 agosto mercurio il pianeta delle comunicazioni formerà un trigono con l'innovativo urano col vostro reggente incoraggiandovi a facilitare le conversazioni di guarigioni che possono sanare i problemi in casa è il momento quindi di aprirsi e di dire a qualcuno come ci si sente veramente quando si fa male tuttavia se qualcuno è disposto a fare spazio per voi dategli il rispetto di ascoltarlo a sua volta potrebbe nascere qualcosa di molto brillante Marte il pianeta della passione entrerà nel segno dei gemelli sempre un segno di aree al 20 di agosto e questo aumenterà veramente tantissimo la vibrazione vi metterà anche nella giusta mentalità per fare festa quando Marte si muoverà nella vostra quinta casa creativa e romantica vi incoraggerà a incrementare la vostra produzione artistica e a trovare modi per godervi la vita a un livello molto più profondo il 27 agosto quando la luna nuova in vergine rominerà la vostra ottava casa del dare e dell'avere vi incoraggerà a liberare le vostre energie da ciò che vi sta prosciugando se non riuscite a ottenere qualcosa da un impegno potrebbe essere il momento di rompere i legami e iniziare a concentrarsi su qualcosa che ha un potenziale di crescita a lungo termine molto maggiore mentre venere forma una posizione con Saturno sempre nell'acquario da un po' di tempo il 28 agosto state imparando che non è possibile forzare una relazione per farla funzionare soprattutto se non tutti i partner i due partner danno il loro contributo riconosci ciò che è e non è sotto il controllo vostro Allora cari amici dei pesci devo dire che questo agosto vi ricorda che la comunicazione è fondamentale quindi siate sempre sinceri se questo mese state litigando di più quanto possiate contare potete dare un po' colpa all'astrologia dopo tutto l'oroscopo pesci di agosto 2022 indica che potreste trovarvi coinvolti in un'esuberante lite soprattutto quando si tratta di amici, fratelli o vicini di casa prendete le parole dure come un granello di sale perché le scuse sono già in cantiere il primo di agosto infatti Marte, il pianeta del conflitto unirà le sue forze con Urano nella vostra terza casa della comunicazione il che potrebbe portare a un incontro forse un po' scortese che innesca il vostro meccanismo di difesa ricordate le parole non sono altro che un vento in questo preciso momento in un uracano quindi non lasciate che influenzino il vostro senso di sé e se vi sentite alle strette fate attenzione a come scegliere o scegliete proprio di gestire questa situazione in altre parole fate attenzione a non dire qualcosa che non intendete quindi con l'ingresso poi di Mercurio nella vostra settima casa delle relazioni il 4 di agosto dovete imparare a comunicare in modo molto più equilibrato e armonioso anche se avete a che fare con persone molto difficili il vostro potere proprio di persuasione può convincere chiunque a fare le cose a modo vostro l'undici agosto la luna piena in acquario sorgerà nella vostra dodicesima casa delle energie invisibili quindi potreste imbattervi in informazioni quasi un po' sconvolgenti se tra di voi c'è un nemico segreto è solo perché siete così popolari in realtà siete invidiati invece di lasciarvi abbattere lasciatevi ispirare a motivare a continuare a lavorare sodo perché è chiaro che le persone sono minacciate nel vostro successo il 16 agosto avete l'opportunità di mettere le cose però in chiaro e di voltare completamente pagine infatti Mercurio forma un trigono lungimirante con urano nel vostro settore della comunicazione e vi incoraggia proprio ad essere il ponte che avvicina tutti alla comprensione la sincerità può essere disarmante in questo momento perché molte persone sentono l'odore della menzogna cercate quindi di abbassare le difese e di essere molto più sinceri perché questo potrebbe essere e soprattutto farvi guadagnare un sacco di rispetto tuttavia perché Mercurio si oppone a Nettuno questo credulone Nettuno che si trova in pesci il 21 di agosto fareste bene a non prendere di parola a chiunque soprattutto se sembra troppo bello per essere vero quindi non cadete in una truffa anche se in apparenza non sembra tale la luna nuova in Vergine il 27 di agosto vi dà un'energia di magia nella vostra settima casa delle relazioni, della coppia e vi incoraggia quindi a lasciare che sia l'amore a guidarvi, a costruire relazioni basate sul rispetto reciproco siete nati diciamo molto empatici voi dai pesci quindi usate la vostra capacità intuitive per attrarre persone che vi aminano per quello che siete fidatevi del vostro istinto perché le vostre capacità psichiche sono lì per aiutarvi e non per farvi del male buon agosto 2022 a tutti quanti grazie